Il giuramento mezzogiorno di fronte al capo dello Stato Mattarella al premio rincaricato Mario Draghi che dopo aver sciolto la riserva ha accettato l'incarico di formare un nuovo governo. Il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti di nomina dei 23 ministri di cui 15 sono politici e 8 tecnici. 5 di loro arrivano dal nord-est, 4 ministri e un tecnico e con la stessa proporzione 4 veneti e uno triestino. Si tratta del grillino Stefano Patuanelli che lascia il Mise e diventa titolare del Ministero alle politiche agricole. Federico Dinka, 43enne bellunese, in quota ai 5 Stelle parlamentare dal 2018, viene confermato ministro per i rapporti con il Parlamento. Per Forza Italia il 70enne Renato Brunetta dopo anni torna al Ministero della Pubblica Amministrazione dopo l'esperienza analoga nel quarto governo Berlusconi. Anche la leghista vicentina Erika Stefani, 49 anni, torna a guidare un ministero dopo l'esperienza di un anno nella maggioranza giallo-verde fra Lega e Movimento 5 Stelle al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie. Ora è stata nominata Ministro alle Disabilità. Se dunque tra i ministri triveneti tutti avevano già ottenuto un simile incarico, fra gli otto tecnici c'è invece un primo incarico alla guida del delicatissimo Ministero dell'Economia per Daniele Franco, belunese classe 1953 di Tricchiana. Ma il suo curriculum è a tutto tondo. Dopo la laura, per lui, Mastro in Economia in Gran Bretagna. Quindi una carriera scandita da incarichi accademici fra Banca Italia, agli esordi dopo la laura, fino a rientro con Draghi Governatore. La Commissione Europea, dove è advisor della Direzione Generale Affari Economici. La collaborazione con la BCE. Fino alla nomina a Ragioniere Generale dello Stato nel 2013. Nel 2019 l'arrivo ai vertici di Banca Italia. E dal 2020 la nomina a numero due del Governatore e la Presidenza dell'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ministro dello Sviluppo Economico.